Ciao ragazzi e benvenuti in questo primo episodio di Il primo film di cui vi parlerò in questo nuovo format è La Abuela, Legami di Sangue. Uscito nel 2021 ma arrivato qui in Italia solo quest'anno grazie a Midnight Factory e infatti trovate il film nella sezione dedicata su Prime Video, racconta di Susanna, una modella parigina costretta a lasciare la sua vita e il suo lavoro per tornare a Madrid. Sua nonna Pilar, che l'ha cresciuta come una figlia dopo la morte dei genitori, ha avuto un ictus. Susanna quindi si mette a cercare qualcuno che si prenda cura della nonna, ma poco alla volta quelli che dovevano essere solo pochi giorni da passare con lei diventano un incubo terrificante. Premesso, ho apprezzato davvero tanto questo film, è uno dei pochissimi film di cui parlerò bene in questo nuovo format perché è uno dei pochi che è un vero film horror e non è una trashata o comunque un qualcosa di trash fatto apposta. Preparatevi ai prossimi episodi, tra l'altro fra poco vi svelerò quale sarà il prossimo film di cui si parlerà. La Abuela si apre fin da subito con una scena che ti fa capire quale mood avremo per tutta la visione del film. E anzi, questo mood salirà le scale sempre di più fino ad arrivare ad una scena che ho apprezzato tantissimo assieme a livello horror perché questo sì, l'ho già detto, è un horror a tutti gli effetti, dalla prima scena fino all'ultima. Anche se, se ci pensiamo un po', verso l'inizio del film non si respira molto un ambiente horror, ma già da una prima scena, questa recensione sarà senza spoiler almeno questa parte del video, poi si parlerà un po' più specificatamente nella seconda parte, ma ci sarà un avviso, da questa scena sì, da lì partirà tutta la parte horror che non si fermerà mai, anzi salirà sempre di più. Parlandone un po' velocemente in modo tecnico, posso dirvi che la fotografia del film si concentra molto sui colori caldi che in realtà danno un senso opposto, un po' di freddezza, un po' di mistero, quello che effettivamente lo spettatore dovrebbe sentire, e ci riesce perfettamente. Anche la scenografia fa il suo, che in realtà è solo un appartamento per il 90% del film, e magari è proprio questo fatto, il fatto che sia un appartamento, un luogo in cui siamo stati tutti, a renderlo così inquietante e spaventoso. Ho visto anche qualche spediente a livello registico che ha come protagonista lo specchio, gli specchi o il vetro in generale, e queste scene mi sono piaciute davvero tanto. Poi la camera ogni tanto induce su qualche oggetto e ripensandoci, ho visto il film più volte, l'ho visto quattro volte prima di questo video, e ripensandoci, la regia aiuta e accompagna lo spettatore allo svelamento del plot twist. E infatti sfortunatamente per quanto mi riguarda ho pensato a un possibile plot twist di questo film, e così è stato, si è rivelato quello. È forse un po' troppo prevedibile dopo qualche scena, però posso dirvi che comunque non sono rimasto deluso. Perché se comunque vi piacciono gli horror, questo è un horror con le palle, al 100%. Ripeto, la prima scena è un po', what? Che cosa sta succedendo? Però si capisce fin da subito che quello è appunto un prologo per il plot twist che arriverà da lì a poco. Ma in generale mi è piaciuto l'intero film, anche perché non vengono usati, non vengono sfruttati al 100% i jumpscare, che sono un espediente che io odio sinceramente negli horror perché li vedo come un qualcosa di finto e forzato, non saprei come dire, per far spaventare lo spettatore, farlo saltare sulla sedia. Non è una vera paura, non è la paura che si prova guardando la abuela, paura che viene costruita lentamente con tutto, anche con le interpretazioni. Gli attori di questo film sono stupendi, sono pochi in realtà. Le protagoniste del film sono solo due, Susanna e la nonna, Nonna Pilar. Però poi ci sono comunque pochi personaggi secondari, tra l'altro ce n'è uno che sembra secondario, ma pensando anche alla prima scena del film non lo è così tanto, vi dico solamente questo. Ripeto, la recensione sarà senza spoiler, non so, potrei fare anche una piccola parte spoiler verso la fine, ma non è questo il momento. Tuttavia, come ho già detto, durante la prima visione sono arrivato al plot twist prima dello svelamento effettivo. Sarà magari per gli indizi che vengono seminati nelle inquadrature fin dalla primissima scena, ma il tutto è un po' troppo suggerito. Non mi sento naturalmente Sherlock, quindi potrebbe essere un difetto del film, non è sicuramente un mio pregio essere così tanto scaltro e intelligente da svelare un plot twist del genere. Quindi questo magari potrebbe essere l'unico problema della abuela, perché del resto è un film quasi perfetto. C'è una scena verso la fine del film, non è esattamente la fine in realtà, sono sui 50 minuti, c'è una scena che mi ha spaventato tantissimo. Io mi inquieto molto difficilmente durante una visione di un horror, sarà magari la soggezione, il contesto in cui ho visto per la prima volta il film, ovvero a luna di notte, con le cuffiette, al buio, però mi sono spaventato. E no, non era una scena jumpscare, non c'è stato un bu, un corvo che è volato, una porta che si è chiusa. Tutta costruzione, interpretazione e regia. E ragazzi, dovete credermi, quella scena è spaventosissima. Quando poi si arriva al plot twist, anche se, ripeto, è un po' telefonato fin dall'inizio, non mi sono sentito in difetto proprio per il fatto che la presentazione di tutto in realtà, di qualsiasi cosa sul finale, è terrificante nel senso positivo. E solo verso la fine hai la risposta alla prima scena. Piccola interruzione per rivelarvi quale sarà il film di cui parleremo nel prossimo episodio, quindi il prossimo lunedì, e l'horror protagonista del secondo episodio di Horror Month sarà... Slacks, un film con protagonista, un paio di jeans, assassino. Ce ne saranno delle belle. Brevissima parte spoiler, quindi se non avete visto La Abuela, intanto andate a vederlo perché ve lo consiglio vivamente. È uno dei migliori film che ho visto quest'anno, non so se lo inserirò nella lista dei film del 2022, perché alla fine è un film del 2021, solo in Italia è arrivato nel 2022, ma vedrò. Comunque ve lo consiglio veramente. Quindi se non avete visto La Abuela, Legami di Sangue, uscite dal video e tornate solamente dopo averlo visto, perché i dettagli sulla trama e su quello che si vede iniziano tra 3, 2, 1. Partiamo dalla primissima scena. Abbiamo questo personaggio secondario che in realtà secondario non è, ovvero Eva, la nipote dell'amica della nonna, di Pilar, che ci viene presentata fin da subito così, nuda, che entra in intimità con la nonna, così. Ed è questa la scena che ti fa pensare subito che cosa sto guardando, che film ho iniziato a vedere. Poi ci viene appunto presentata la vita di Susanna, nemmeno poi così tanto, infatti è quel che serve, quel che ci viene fatto vedere, quel che serve. Non entriamo molto nei dettagli, perché è abbastanza inutile, passiamo direttamente all'incontro con Pilar, perché appunto ci fanno sapere che nipote e nonna fanno il compleanno lo stesso giorno. Sfortunatamente però questa volta Susanna non potrà tornare a Madrid per festeggiarlo con la nonna a causa di lavoro. E allora cosa fa la nonna? Si fa venire un ictus. E no, non sto scherzando, si fa venire un ictus, perché scopriamo poi solamente alla fine, passiamo direttamente alla fine, saltiamo tutta la parte centrale del film, compresa la scena stupenda, dove Susanna sogna di diventare vecchia, quella lì che mi ha inquietato tantissimo. Passiamo appunto alla fine, scopriamo che il piano di Pilar, ma anche della sua migliore amica, era quello di entrare nel corpo delle nipoti. E sì, potrebbe esserci un doppio senso, ma non c'è perché le due, le due anziane, le due vecchie, sono delle streghe. Almeno non ci viene detto effettivamente sono delle streghe, ma lo possiamo capire tranquillamente con tutto quel che succede nel film, con Pilar, con gli incantesimi che lancia, con le maledizioni che fa all'abbadante, all'ospizio, con i vecchi che bruciano vivi. Ecco, sono delle streghe. Tanto che in realtà Eva, la ragazza che si è vista all'inizio e poi anche a metà del film, non era effettivamente Eva, non era la nipote della migliore amica di Pilar, ma era la migliore amica di Pilar nel corpo della nipote. Sempre se di nipote si parla, perché questo è uno dei misteri a cui il film non dà risposta. Susanna ed Eva erano realmente le nipoti di queste due streghe, sembra un po' difficile. Alla fine potrebbe essere semplicemente il piano delle due, rubare così a caso delle bambine con un futuro importante a livello fisico, infatti non sono brutte, per poi al loro compleanno, il loro venticinquesimo compleanno, entrare nel loro corpo, trasferire la loro anima dal corpo anziano a quello più giovane per vivere all'infinito la loro amicizia o meglio il loro amore, perché nel film capiamo che sono un po' in intimità le due streghe amiche. Il film quindi è uno di quegli horror che finisce male, malissimo per la protagonista, protagonista che non esiste più o meglio, magari c'è stato uno scambio di corpi ed è ancora più spaventoso visto che il film si conclude esattamente con un'inquadratura che si avvicina al corpo di Pilar morta con una canzone totalmente in controsenso e quindi rende la scena ancora più spaventosa e magari lì dentro c'è appunto Susanna, ora che l'anima della strega è nel corpo della venticinquenne. Dove stanno tutti questi indizi fin dall'inizio di cui ho parlato nell'Aparteno Spoiler? Beh, partiamo subitissimo dalla Matrioska. La Matrioska è la famosissima bambola russa che viene rappresentata esiste in questo modo ed è una bambola una donna con all'interno altre donne donne all'infinito simbologia per rivelare già alla fine il plot twist perché infatti non ci viene detto esplicitamente anche in questo caso ma probabilmente molto probabilmente quel corpo di Pilar non era il corpo originale della strega ma era semplicemente il corpo di un'altra giovane sfortunata proprio come Susanna che si è ritrovata come nonna Pilar una strega che al venticinquesimo compleanno le avrebbe rubato il corpo ed è una cosa che molto 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 probabilmente succede da secoli in quella realtà tanto che nella stanza di Pilar il muro è pieno zeppo di immagini di foto di altre ragazze ragazze giovani magari i corpi passati che hanno ospitato l'anima della strega o delle streghe perché appunto ripeto non è solo Pilar a fare questa roba è anche la migliore amica amante ma ragazzi fatemi sapere con un commento qui sotto se avete visto il film se siete arrivati a questo punto del video penso l'abbiate visto se no vi siete beccati questi spoiler così gratuitamente e mi dispiace perché questo è un film tutto da scoprire anche se appunto il plot twist si rivela un po' troppo facilmente ma comunque non sono rimasto deluso come ho detto e niente se volete supportare il mio canale vi informo che in descrizione trovate i link dei miei social Instagram Twitter e TikTok tutto in descrizione assieme al link di Pampling codice il pensiero 4 per supportare il mio canale e avere un paio di calze gratis a scelta e ragazzi io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao